Buongiorno e ben ritrovati. Oggi vogliamo dedicare questa intervista a una famiglia di standard di reti per la comunicazione industriale fra i più diffusi a livello mondiale e anche in Italia. Stiamo parlando infatti di Profibas, Profinet e IO-Link. E infatti abbiamo qui con noi Giorgio Sant'Andrea, presidente di Consorzio PI Italia, dove la pista appunto per Profibas e Profinet, emanazione di PI International, l'associazione che si occupa della promozione e sviluppo di queste tecnologie di rete a livello mondiale. Buongiorno Giorgio, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Ilaria. Allora, PI Italia è nata nel 1994, oggi conta già 72 aziende associate, mentre sono oltre 100 milioni di Profibas e Profinet installati nel mondo e 16 milioni quelli di IO-Link. Quali saranno i prossimi traguardi tecnologici? Grazie, allora i prossimi traguardi tecnologici saranno focalizzati ovviamente al mondo della digitalizzazione. Profibas e Profinet, come hai detto tu, sono delle tecnologie nate nel Profibas del 94, Profinet all'inizio degli anni 2000, ma sono sempre state caratterizzate dal fatto di essere trendsetter, di essere leader di mercato e di essere sempre innovative aggiornandosi con quelle che sono richieste dal mercato. Le ultime novità che sono uscite negli ultimi anni e che usciranno a breve sono legate proprio al mondo della digitalizzazione. Infatti Profinet, nello specifico, lo presentiamo come quello che è una piattaforma per noi abilitante per implementare i concetti di digitalizzazione nel mondo dell'industria. È in grado di poter avere al proprio interno la possibilità di integrare reti TSN, già disponibili oggi all'interno del profilo e delle specifiche di Profinet, ha la possibilità di sincronizzarsi e integrarsi con il protocollo OPC UAE, esiste infatti una companion specification di PC UAE che consente di andare a integrare in maniera nativa le reti Profinet all'interno di un protocollo di comunicazione PC UAE, ha ad esempio la possibilità di gestire delle reti già oggi 5G, quindi wireless 5G, wireless è sempre stato disponibile nel senso di wireless industrial Ethernet, oggi è anche possibile andare a integrare all'interno di Profinet un'infrastruttura 5G. Sempre Profinet ad esempio è anche in grado di poter andare a comunicare e essere utilizzato in aree specifiche tipiche del mondo dell'automazione di processo che sono quelle aree ad esempio a rischio esplosione, dove fino ad oggi con le reti Ethernet non è possibile arrivare, oggi grazie alla tecnologia single per Ethernet è possibile arrivare fino in queste zone e proprio lì Profinet è in grado di andare a connettere direttamente i dispositivi e i device presenti in campo. Inoltre, last but not least, Profinet ha implementato e ulteriormente implementerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, delle funzionalità specifiche dedicate per andare a integrare e integrare i concetti di security, di cyber security all'interno del field bus direttamente. Questo è un aspetto molto importante perché oggi noi parliamo di digitalizzazione, parliamo di integrazione massima dei sistemi, tutti comunicano con tutti, però proprio questo ci apre un pochettino a dei rischi maggiori che dobbiamo prendere in considerazione e grazie alle tecnologie che implementa Profinet ad esempio questi rischi vengono ridotti al massimo e quindi siamo in grado grazie proprio a queste tecnologie di andare a garantire anche la cyber security integrata direttamente all'interno del field bus. Bene, in conclusione possiamo dire che oggi l'industria manifatturiera per essere competitiva sul mercato ha bisogno della migliore automazione possibile e questa dipende in gran parte dal sistema di networking e comunicazione che le fa da base. Profinet assicura interoperabilità, sicurezza e rapidità di comunicazione per una produzione davvero 4.0. Per questa intervista è tutto, vi invito a seguire anche le prossime interviste di Automazione Oggi. Grazie e alla prossima!